Allora Sandro, spiegaci un attimo questa cosa che dovrebbe volare E come? Le parla da sola? C'è poco da dire se vola Allora, questo è Babbo Natale Allora, questo vende, abbiamo aspettato troppo tempo Le renne Babbo Natale è proprio tridimensionale Ma anche la cacca No, se vola questo è eccezionale E Sandro, lui è Sandro, quello delle cose stranissime Lui fa volare anche le... Dovete mettere su YouTube, scusami Eh, ah, c'è tanta merda Sì, scusami Questo è una parte del gruppo Perché qui lui è il presidente Questa è la figlia del presidente Lui è Daniel Poi c'è Fabrizio C'è Mario C'è Ugo E il presidente Simone Simone, Simone Piero, Piero Piero è la nostra colonna portante Ma scuola Allora Bianchina, fermati Fermati che devo prenderlo a modino Via, vai Dai Anderà? Nooo Perché hai fatto ciò Perché hai fatto ciò, Johnny? Perché l'ha mai fatto così? Ti ha sbagliato Non c'è Ma come è tu? I ragazzi Mannaia Sperziamo la gamba La legge Se Lupe Allora ingesta dai Io dico che se la gritta non va Nooo Ingestiamo dai no